La consigliera è che sono un po' di una prima data di un'altra, non è possibile vedere dopo, perché volevo sapere proprio quali erano le linee, se è possibile, ci ne era la sua, allora se è da voi. Come si vede, 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 si vede. Buongiorno a tutti i presenti, guardate, io oggi dovremmo parlare della nomina di dirigenti, diciamo, stagini, non voglio, ho detto, ci dovrebbero continuare a stare in questo momento abbastanza importante, però siamo i dirigenti che è tutto a loro e ci riscono un momento abbastanza importante. Allora, la mobica, la prende male, la faccia scena. Però stagionando, è importante, è importante, è importante a persone che non sono un'alto comunitaria del tipo, ma addirittura a un'alto, è un'alto che è un'alto che è un'alto. E quindi io rispetto alla Badevo, problemi di comunicare il lavoro, a te abbiamo dedicato un consiglio comunale importante, straordinario, chiedo a pensare che così, a cui proprio questa, poi dopo mi serve di intervenire sui cedici, però chiedo prima di concludere la comune di lavoro, per discutere la comunicazione di un'alto comunale, per discutere dei problemi di richiede cittesa e l'attivazione dei processi occupazionali, come chiedono il movimento degli OSD. comunali, non so se non le pensi, ma anche se non le pensi è un'alto di un'alto, c'è un'alto di un'alto, c'è un'alto che ha un'alto di un'alto. Sì, io, non mi la proposta per quanto tra l'altro, non dire, non mi ha ragione, non mi scuso, non mi ha ragione, non mi ha ragione, non mi ha ragione. Non mi ha ragione, 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 non mi ha ragione.